22 comuni ricicloni, con una percentuale di raccolta differenziata oltre il 65% nel 2015, di cui tre rifiuti free, che hanno cioè raggiunto una quota di secco residuo pro capite sotto i 75 kg anno per abitante. Ma 41 città pugliesi restano indifferenti, con una differenziata al di sotto del 10%. Sono i dati presentati in occasione della nona edizione di Comuni Ricicloni Puglia di Lega Ambiente, con il patrocinio dell'Assessorato all'Ambiente della Regione e dell'Anci. Il presidente di Lega Ambiente, Puglia, Francesco Tarantini, ha premiato 53 sindaci pugliesi, con quattro diversi riconoscimenti. Primi in classifica fra i 22 ricicloni si piazzano Rutigliano, Faggiano e Roseto Valfortore, con il 77% di differenziata nel 2015. C'è poi il premio seconda categoria per gli 11 comuni che hanno raggiunto il 65% nei primi nove mesi del 2016. Ancora la menzione speciale, teniamoli d'occhio, ai 17 comuni che con l'avvio nel porta a porta hanno superato il 55% di differenziata nei primi nove mesi del 2016. Molti cittadini, la maggioranza dei cittadini, ha capito e sta capendo che riciclare e quindi far diventare il rifiuto una risorsa è fondamentale, non solo sotto il profilo ambientale ma anche sotto il profilo economico. Credo che la Puglia si contraddistingua sulle regioni meridionali, a eccezione della Campania, come percentuale di raccolta differenziata e anche come miglioramento. Ovvio che stiamo indietro rispetto agli obiettivi ma stiamo facendo ogni sforzo possibile anche sotto il profilo della raccolta, non solo sotto il profilo impiantistico per consentire l'aggiungimento di questi obiettivi entro febbraio 2018 o nel più breve tempo possibile. Rimane bassa tuttavia la percentuale media regionale di raccolta differenziata. Risultati non molto soddisfacenti perché mentre in Europa si sta discutendo del pacchetto sull'economia circolare che punta al riutilizzo, alla riduzione del riciclaggio, in Puglia possiamo ancora parlare di economia lineare. Un'economia lineare è dettata da una bassissima percentuale di raccolta differenziata regionale. Il 2016 si chiude con il 36,2% a fronte di una media nazionale del 47,5%. Il 52% dei rifiuti in Puglia continua a finire in discarica, quindi il ciclo dei rifiuti è basato sull'utilizzo della discarica. Questo significa anche che l'ecotassa, ossia la penalizzazione economica, non ha funzionato e l'impiantistica continua ad essere carente e insufficiente a partire dagli impianti di compostaggio. Quindi questo significa che prima o poi ci saranno, già ci sono, delle ripercussioni sulle tasche dei cittadini. Menzione speciale infine per il comune di Bitetto, nel Barese. Io sono orgogliosissima di questo premio perché la differenziata davvero c'è entrata nel cuore, nel sangue e naturalmente abbiamo provato a coinvolgere nel migliore di modi anche tutta la cittadinanza. La comunità di Bitetto ha risposto in un modo eccellente. Il paese è cambiato, inutile dirlo, anche a livello ambientale è tutto quanto diverso e soprattutto è bellissimo la mattina, anche presto, vedere tutti questi mastelli colorati, ordinati, puliti. Non ci sono più i cassonetti, c'è tanta pulizia in più.